buongiorno cercavo per favore un mensile che è uscito tre o tre anni e mezzo fa è una cosa che parlava di travi sa stiamo restaurando casa allora ah no non si può ordinare vero ma è passato troppo tempo va bene grazie arrivederci richieste assurda buongiorno cercavo un mensile che si chiama piantare le piante tratta di piante non ce l'avete e per io figlio appassionato di auto rotelline veloci no neanche e poemissimi asburgici eh siamo una famiglia leggiamo di tutto siamo un po' di intellettuali ecco ah no 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 grazie lo stesso arrivederci indovina il mensile buongiorno senta ho letto sul quotidiano di ieri che oggi o ieri sarebbe uscito una pubblicazione di cui non ricordo il nome forse costava 2 90 o 3 50 4 euro la copertina era mi sembra sul rosso di queste dimensioni ma non ha capito ma beh mi informa meglio grazie rivederci cento euro ciao beccio maratto vai nuova cento euro va bene servizio sociale buongiorno giovine salvi senta costo telefono chi sei a bloccato e devo fare una telefonata mia figlia ma non so bo non capisco cosa che abbia provato anche perché siccome che ieri andava a mangiare ieri sera si andava a mangiare con i suoi amici no? e a luisa e a barbara e a michela simpatica michela e cioè andai a mangiare su un posto mi ha detto a mamma e faccio i fasi oggi e siccome che ha problemi di gestione insomma ma fa difficoltà vuoi telefonarvi per sapere come che stava come che è già andata ma si blocca tutto giovine per favore che davvero c'è da sto telefono sblocchiamo dai giornale 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 di calcio buongiorno senta se viene fuori a quel mensile di calcio nuovo che si chiama aleuuu aleuuu non no non trovoi problemi problemi